Tutta la nostra famiglia ha un pensiero per Ingersson perché a parte che è stato un grande giocatore qui a Bari ma ha lasciato un grandissimo ricordo sportivo ma penso anche da quello che ho sentito pur non conoscendolo personalmente anche come persona è chiaro un messaggio anche alla famiglia perché so che lascia anche dei figli quindi è sempre una cosa brutta insomma. La squadra è migliorata tanto e rimane. C'è stato probabilmente un calo nostro di tensione per la gara di Varese è un errore e dagli errori bisogna anche prendere spunto per poi non ripeterli. Sulla partita di ieri il segnale più bello è che a fine partita i ragazzi sono stati applauditi da tutto lo stadio perché penso che i ragazzi dal punto di vista dell'atteggiamento, della voglia di vincere ma anche della prestazione per le occasioni che abbiamo creato sinceramente non gli si possa dire molto. Il problema può venire nel momento in cui non crei le occasioni invece noi sono parecchie partite che di occasioni ne creiamo tante. Ci sono delle partite dove la percentuale realizzativa è alta come Catania e Avellino e altre dove si fa un po' più fatica pur creando i presupposti per segnare. Sono dei momenti però la squadra deve mantenere la fiducia, la serenità per continuare su questa strada. È chiaro che dobbiamo fare noi in mente locale e ragionare sul fatto che comunque la classifica in questo momento ci dà determinate indicazioni e per andare o per raggiungere i posti che vogliamo ottenere e si vede che dobbiamo fare ancora di più. È chiaro che magari ti viene un po' di frustrazione dove in alcuni momenti ti rendi conto magari di non essere riuscito a ottenere un risultato nonostante comunque una buona prestazione o una prestazione comunque al pari dell'avversario, più o meno positiva ma al pari dell'avversario. Poi sul discorso arbitrale non ci entro. È chiaro che si cerca sempre di fare tutti il meglio, come ho sempre detto, se sono tre squadre che vanno in campo, le due che si affrontano più la terza squadra che quella arbitrale, a volte viene tutto bene, a volte meno bene. L'unica cosa è che bisogna secondo me lavorare o pensare, ma questo è un discorso più generale per il calcio, non per noi, nel tutelare un attimino di più secondo me le squadre che provano un po' di più a fare le partite, ma anche per rispetto soprattutto della gente e del pubblico perché a me il dispiacere di ieri è che se io vado a vedere e poi secondo me non si è giocato molto e la gente viene invece allo stadio per vedere giocare. Noi dobbiamo essere bravi a mettere sempre la partita sui benari a noi congeniali e non andare dietro al ritmo o al tipo di gara che vogliono fare gli avversari. È chiaro che a volte ci riesci dal primo minuto, a volte ci riesci dal ventesimo, però la partita di ieri secondo me nel complesso è stata una partita che noi abbiamo gestito bene, magari in alcuni momenti l'abbiamo gestita e in alcuni momenti abbiamo proprio attaccato, non dico in massa, ma quasi l'area avversaria. Quando una squadra si difende molto bassa ti concede la possibilità di calciare da fuori e secondo me è una cosa che va sfruttata, è una risorsa che va sfruttata. Avendo noi anche delle discrete doti dalla distanza dobbiamo sfruttare anche quelle. È una pariata difficile come al solito in questo campionato. C'è la variabile del campo insintetico che magari è un po' più difficoltosa in considerazione del fatto che la terza partita in una settimana, questo cambio di superficie può essere un po' fastidioso, però a prescindere da quello sarà una partita come tutte le partite di Serie B, imprevedibile e difficile, per entrambe però. Quindi noi dovremo andare là e abbastanza incazzati secondo me, in considerazione anche delle ultime partite e fare la nostra gara. No, ma su De Luca... È perché è imprevedibile, perché tutti si aspettano, è assente un nanetto, ci aspettano tutti che sia svelto e allora si rilassano un po' sulle palle aeree e lui è furbo e fa gol di te. È un stacco imperioso alla Luca Tonia.